... Qualche settimana fa con un editoriale sul Corriere della Sera Giuseppe De Rita, anima del Censis e impareggiabile rabdomante capace di cogliere con largo anticipo e con originalità di soluzioni i fermenti e i cambiamenti che attraversano la società italiana a proposito dei programmi di governo metteva in guardia chi li proponeva state attenti, scriveva riempire pagine e pagine di buoni propositi paradossalmente allontana l'attenzione di quegli stessi a cui sono rivolti anzi sempre più frequentemente quegli articolati programmi si rivelano un boomerang per chi dettagliatamente li propone a chi si candida a governare, suggerisce De Rita serve piuttosto molto realismo soluzioni possibili e non immaginarie o immaginifiche ai problemi che sono alla base della vita di tutti i giorni dei cittadini la premessa ci serve per introdurre una riflessione su Avellino e su quanto si sta preparando in vista delle prossime elezioni amministrative nella primavera 2018 riflessione che oggi a senti chi parla cominciamo, facciamo con Luca Cipriano tra i fondatori e animatori dell'associazione Ossigeno nata ufficialmente meno di un mese fa alla quale aderiscono anche abbastanza trasversalmente cittadini di ogni età e ceto io partirei Luca se sei d'accordo con la società civile perché in uno scambio di opinioni con Ugo Santinelli sociologo di Avellino che non si dice bugie che però è un attento conoscitore della realtà di Avellino e non solo Santinelli diceva ma quale società civile? l'ultima chance, l'ultima occasione che la società civile avellinese ha avuto di scendere in campo e di fare la differenza è stata quella della lista civica a cui aderì dopo essere stato disarcionato Tonino Di Nunno che candidò a sindaco Amato Barile il compianto magistrato scomparso poche settimane fa di quale società civile parliamo ad Avellino quando parliamo di società civile? Beh, diventa difficile come dire mettere un punto di delimitazione Io non sono molto d'accordo con la lettura di Santinelli è una lettura come dire un po' di parte nel senso è complesso dire quella era la vera società civile da allora in avanti non c'è stato nulla Beh, società civile è un termine anche antipatico abusato spesso strumentalizzato però di fatto che cosa vuole essere? Vuole essere un richiamo a noi cittadini tu sei società civile io sono società civile ingegneri, architetti, medici, avvocati casalinghe chiunque è società civile Soprattutto disoccupati di questi tempi Tutti chiaramente è un termine evidente che sì sono purtroppo una categoria predominante evidente è un termine che riguarda l'opinione pubblica la gente le persone sono società compongono una massa una massa critica una massa che se diventa in qualche modo attiva entra anche a gamba tesa perché a volte ha idee più avanti rispetto alla politica rispetto ai partiti ha un sano pragmatismo quello che a volte i partiti non hanno quindi la società civile almeno per come la intendiamo noi la intendo io significa gli avellinesi nel caso specifico che guardano la loro città si rendono conto che le cose funzionano o non funzionano e decidono di dare un contributo che non vuol dire automaticamente fare politica o essere candidati Insomma c'è la società civile di difficile identificazione però insomma perché non dovrebbe esserci insomma c'è anche perché diciamo così quella che poi è diventato una sorta di luogo comune derivato dalla vulgata insomma dice ma qual è la società civile la società civile la società politica sono in osmosi continua e ci si si identificano continuamente per cui questa cesura questa divisione questa separazione sarebbe impropria è anche esatto è sbagliato mettere come dire la politica da una parte e la società civile dall'altra sono due vasi comunicanti la politica si alimenta dei cittadini e quindi della società civile la società civile delega la politica a risolvere i problemi quando questo circuito quando questo cortocircuito non funziona quando qualcosa si rompe la società civile almeno quella un po' più attenta decide di scendere in campo e di essere protagonista noi l'esperienza che stiamo facendo in queste settimane è di incontrare avellinesi persone della nostra città che non si rassegnano a questo stato di cose che hanno ancora voglia di dare un contributo e stiamo dando loro uno strumento per farlo i programmi Luca le piattaforme che ha messo in piedi l'associazione ossigeno abbiamo ricordato è nata metodo un mese fa aveva poco meno di 300 iscritti mi pare che le adesioni crescono significativamente da questo punto di vista ecco le piattaforme programmatiche tematiche di ossigeno da questo punto di vista l'avvertimento che abbiamo citato in premessa di Derita è molto utile è utile o no? è molto utile è un avviso ai naviganti concordo con il tuo incipit ossigeno vuole essere pragmatismo non vuole essere massimi sistemi non vuole essere appunto programmi ampollosi ricchi di parole e vuoti di fatti ossigeno è un'associazione che come ricordavi ha messo insieme un po' di avellinesi siamo quasi 400 quindi insomma tanti pochi non siamo mi sembra che si incominci a radicare il progetto 100 più di quelli di Pisacani voglio dire beh sì insomma i paragoni sono antipatici però sì sì è un paragone un po' non porta fortuna esatto però siamo c'è sicuramente un'attenzione delle persone a voler fare delle cose ossigeno ha organizzato il lavoro in otto focus tematici ogni focus è un gruppo di lavoro un mini gruppo di lavoro ha tre coordinatori e ha una missione i focus sono l'identità il rammendo il lavoro la felicità la connessione il futuro sono parole che traducono altrettanti passaggi di quello che può essere un programma di azione per la città di Avellino faccio un esempio banalissimo la nostra presentazione si apre con la parola identità oggi probabilmente noi ci vergogniamo di essere avellinesi perché la città per le condizioni in cui è non è una città che ti dà gioia che ti dà orgoglio se tu inviti un tuo collega da Milano ad Avellino probabilmente avrai anche un po' di imbarazzo a fargli fare una passeggiata in città questo è un esempio banale ma si potrebbe estendere a tantissimi altri elementi sull'identità della città invece noi vogliamo lavorare perché l'idea di ossigeno è che noi dobbiamo essere fortemente orgogliosi della nostra storia e della nostra identità ma non a chiacchiere valorizzando quelle cose buone che ci sono nella città di Avellino e che sono elementi di orgoglio ti faccio un esempio e chiudo la rete delle scuole il mondo dell'istruzione nella città di Avellino ha una ventina di istituti tra scuole medie e scuole superiori con loro faremo anche un'iniziativa nelle prossime settimane a cavallo con la chiusura dell'anno scolastico guarda che nelle scuole della città di Avellino stiamo scoprendo progetti di grande interesse e di grande eccellenza che il ministero e le istituzioni mettono al top della classifica nazionale raccontare agli avellinesi che esistono queste cose e dare sostegno a chi queste cose fa significa anche riscoprire la nostra identità ecco tra le otto piattaforme a me pare tornando in qualche modo anche alla premessa che facevamo utilizzando Derita mi pare che la piattaforma destinata a fare la differenza che comunque costituisce la differenza di ogni programma di governo amministrativo e non solo sia la piattaforma che riguarda la felicità perché sembra una cosa un po' anche un po' retorica un po' diciamo così maliziosamente acchiappante accattivante ma in realtà una città quando è serena quando vive bene quando non è rassegnata quando è motivata quando è in qualche modo entusiasta beh riesce collettivamente e ognuno per proprio conto a produrre cose positive è lo stato d'animo che si che muove il contesto come le persone sono mosse dalle passioni io ci sarei molto sulla felicità hai individuato una parola sulla quale abbiamo ragionato a lungo non è appunto un claim uno slogan pubblicitario è lo specchio di una città che oggi appare grigia triste rassegnata noi parliamo spesso con persone che hanno un'idea imprenditoriale una start up la voglia di fare qualcosa e queste stesse persone sai che ci dicono alla fine guarda non perdiamo tempo siamo andati al comune dieci volte undici volte ci dicono sempre di rimandare di ritornare un muro di gomma sai che ti dico questa cosa io non la faccio ad Avellino questo è lo specchio di una città che non funziona di una città triste allora il tema della felicità significa dare a tutti le condizioni di serenità per poter nella città di Avellino con l'entusiasmo con la passione e la passione non ci sta solo nei ragazzi la passione c'è ovunque la passione c'è nelle persone adulte nelle persone nei pensionati nelle persone che ancora lavorano c'è chiaramente con maggiore rabbia e con maggiore mordente in chi invece vive la città o da studente o da neolaureato e non vede opportunità per potersi muovere allora il tema della felicità sarà declinato anche questo con delle iniziative alcune simboliche alcune più concrete che porteranno a movimentare l'animo lo spirito delle persone se la città se la gente riscopre la voglia di fare io ritengo che in qualche modo la città possa riscattarsi più velocemente di queste iniziative parleremo tra poco alcune sono già state avviate una sorta di campagna di ascolto intanto e poi iniziative più concrete ma insomma bisogna però anche fare i conti dentro diciamo così non questi buoni propositi dentro questo questa offerta realistica di proposta di governo alla città bisogna fare i conti anche con un elemento storico che prescinde persino dalle attuali collocazioni politiche e che però ha una sua ragione politica nel fallimento di alcune scelte sto parlando di una serie di chance negate ad Avellino ormai da diversi decenni a causa delle continue emergenze di cui la città non riesce a liberarsi dal dopo terremoto in avanti Luca sei stato consigliere comunale insomma sai bene quanta parte di quella fase pesa ancora oggi in termini economici finanziari di agibilità insomma da questo punto di vista i prossimi anni è un po' questa la speranza più che la domanda noi dobbiamo riusciremo combinare due elementi la tua riflessione è corretta il quotidiano e la prospettiva il quotidiano significa ridare attenzione a tutto quello che manca una città devastata sporca abbandonata rifiuti servizi che non funzionano trasporti asili scuole edilizia strade quindi l'ABC ripartire dall'ABC che è la parte forse più emergenziale rispetto alle quali non bisogna più solo criticare ma anche fare delle proposte per capire come mai si è rotto il meccanismo e quali sono i sistemi per farlo ritornare in campo quello che dice è il futuro è la prospettiva noi paghiamo oggi ne abbiamo discusso molto con gli architetti che hanno aderito all'associazione le scelte intanto urbanistiche sbagliate fatte nei 30 anni precedenti a questa conversazione la strategia di una qualche grandeur di Avellino nel dopo terremoto si è rivelata del tutto sbagliata e infondata si è disegnata una città di 120-150 mila abitanti si sono disegnati servizi per una città di questo tipo abbiamo poco più di 50 mila persone che vivono ad Avellino si potrebbe dire che l'aria vasta potrebbe recuperare questo ma è già un altro discorso è un altro scenario è un altro tema e anche l'aria vasta non va certo costruita così come è stata costruita perché insomma mi sembra tanto chiacchiere vaste più che aria vasta allora è necessario fare i conti col passato analizzare con molta ragionevolezza senza voler fare il processo a nessuno questo non interessa non ci interessa però analizzare con ragionevolezza le scelte sbagliate che abbiamo ereditato e su questo puoi pianificare il disegno della città del futuro uno dei focus si chiama futuro ed è titolato Avellino 2037 perché oggi si devono fare scelte che avranno ricadute per i prossimi 20 anni e queste scelte significano un nuovo piano regolatore significa il rapporto città-campagna significa l'utilizzo di tutti gli edifici abbandonati nella città di Avellino l'ospedale la caserma in parte utilizzata i vari plessi della città ospedaliera ancora non utilizzati il nuovo tribunale si deve fare o non si deve fare il nuovo stato in questa città si deve fare o non si deve fare il piano mobilità e parcheggi in questa città funziona o non funziona allora ci vuole una giusta combinazione tra l'analisi degli errori per non andare a ripeterli l'analisi dell'attuale per capire che cosa si può fare e in che tempi e ci vuole anche una dose di sana concretezza perché è inutile girarsi attorno i soldi sono finiti non ci sono più i fondi del passato la città ideale non si può disegnare non è più un gioco con sana concretezza io ritengo che bisogna anche fare alcune scelte e dire queste cose noi non le possiamo fare del mercatone non ce ne possiamo più occupare e quindi vanno fatte scelte faccio un esempio chiaramente vanno fatte scelte drastiche ci sono cose che urgono ormai urgono hanno bisogno di soluzioni che archivino più o meno definitivamente alcune partite perché altrimenti altrimenti si ricomincia da capo sarebbe ben strano che nei prossimi 5 anni della prossima consigliatura stiamo qui a discutere ancora del mercatore insomma si decida cosa farne punto e si va a capo ma si decida con realismo nel senso che se non ci sono i soldi le possibilità di gestire queste strutture allora bisogna fare delle scelte la vendi la dai ai privati ammesso che esista che abbiano mercato queste strutture oppure ti fermi chiedi scusa alla città dici che quelle strutture non sono più gestibili siamo come dei nobili decaduti una famiglia nobiliare che aveva tanti appartamenti tanti castelli tanti palazzi finiscono i fondi e non puoi continuare a gestire la casa in campagna la casa al mare la casa in città qualcosa dovrai pure venderla o dovrai accettare di venderla parliamo un attimo di questa campagna di ascolto che ossigeno ha cominciato ad Avellino lo scorso weekend sul corso avete incontrato cittadini insomma la tua sensazione qual è rispetto diciamo così all'approccio che i cittadini hanno insomma vi sentite spinti lo dico non con la retorica di circostanza che insomma porterebbe a dire che c'è grande entusiasmo queste frasi un po' fatte l'elemento che individuo è la curiosità cioè noi stiamo vedendo attorno a questo progetto ed è il motivo per cui siamo scesi in strada abbiamo iniziato al corso Vittorio Emanuele andremo nei quartieri della città andremo in altri luoghi della città quindi non è un'operazione legata a un fazzoletto di città ma vogliamo incontrarla tutta tutto quello che ci viene chiesto è curiosità cioè la gente ci guarda con interesse vuole capire che cos'è questo progetto vuole capire che contributo anche può dare in prima persona molti ci dicono sì vabbè io mi scrivo però poi che mi fate fare che è una se ci pensi è un approccio bellissimo alle cose è un approccio fortemente rivoluzionario noi cerchiamo gente che ha voglia di fare non abbiamo bisogno di altre chiacchiere di altri progetti di altri disegni di altri sogni e diritti che non si realizzano abbiamo bisogno di persone che hanno voglia di fare e questo fermento devo dire che c'è chiaramente va seminato va coltivato le persone vanno motivate va chiesto scusa per una serie di errori fatti anche da noi stessi non è che siamo vergine o nati stamattina quindi tutti coloro che credono in questo progetto con molta umiltà hanno l'obiettivo di avvicinare altre persone insieme agli altri di costruire qualcosa di concreto ecco voglia di fare proprio oggi fino al primo giugno è partita un'iniziativa di ossigeno puliamo la città una sorta di appello agli avellinesi dice cominciamo noi a farlo fatelo pure voi raccogliamo rifiuti curiamo aiuole aggiustiamo panchine insomma buone azioni che alimentino e rigenerino anche una disponibilità al senso al senso civico voi dite anche facciamo questa buona azione scattiamo la vostra pubblichiamola su facebook questo non per un fatto di pubblicità o propaganda ma per incitare alla emulazione evidentemente l'iniziativa si chiama volesse chiaramente è un gesto simbolico non saranno i soci di ossigeno a risolvere i problemi della città è talmente evidente è un segnale cade in un momento di congiuntura interessante la città non è mai stata così sporca così degradata così abbandonata e credo che su questo siamo tutti d'accordo tutti forse anche gli amministratori di palazzo di città con un po' di ci sono anche delle ragioni perché questa questa situazione è così si diceva prima le risorse l'allarme causato per esempio dalla presenza di ratti in città anche nelle zone e beh lì voi lo fate vedere tutti i giorni ci vogliono i soldi per pagare l'asel che faccia la derattizzazione insomma e poi la CS quindi la manutenzione del verde siamo in una fase che qualcosa si sia rotto e non funzioni è evidente però nemmeno possiamo dire sempre non ci sono i soldi e quindi non si taglia più l'erbo la città deve diventare una discarica per l'erbo e contro i topi un po' di soldi si devono trovare qua siamo all'ABC anche perché parliamo di cifre contenute a costo di fare la colletta bisogna trovarli insomma la colletta chiaramente è una provocazione ma è evidente che l'amministrazione è stata in ritardo nell'erogazione di una serie di servizi allora noi abbiamo detto agli avellinesi per una settimana in maniera simbolica ognuno di noi si rimbocca la camicia e fa una piccola azione vedi un sacchetto della spazzatura fuori posto lo prendi e lo rimetti nel bidone vedi una panchina abbandonata la prendi e la rimetti a posto questo è più difficile non c'è l'etichetta puoi sistemare un piccolo spazio verde chiaramente nel rispetto di tutto quello che è la sicurezza eccetera eccetera fallo l'obiettivo è far capire che anche gli avellinesi sono pronti a collaborare che le persone non sono solo chiaramente arrabbiate e pronti a lamentarsi ma ognuno di noi è pronto a fare la propria parte perché il passaggio successivo sarà spiegare un concetto diverso di cittadinanza attiva non ti sorprenderà il fatto che in regioni molto evolute dal punto di vista della gestione della cosa pubblica penso all'Emilia Romagna penso a città come Bologna città anche ricche e benestanti da anni sono in vigore meccanismi si chiama di baratto fiscale cioè meccanismi per i quali l'amministrazione si fa aiutare dai cittadini a gestire magari uno spazio verde e i cittadini ricevono un incentivo economico sulle tasse che devono pagare all'amministrazione questa cosa è sintomo di grande civiltà parte dall'analisi di un problema il comune non ce la fa più a gestire da solo tutti gli spazi di una città ma trova una soluzione di grande intelligenza e solidarietà civile per cui la gente ti aiuta l'amministrazione e l'amministrazione ricambia la gente oggi noi ad Avellino viviamo il caso opposto l'amministrazione vessa i cittadini e in qualche modo li ostacola e li fa vivere in un immondezzaio continuo nel quale bene o male se l'erba non ce la tagliamo da soli diventa più io sono bassino sono alto 1,70 l'erba è quasi alta quanto me in alcune zone della città ma veramente possiamo andare avanti così? allora questa iniziativa che da oggi al primo giugno vuole in qualche modo movimentare le coscienze e gli avellinesi non è altro che piccoli gesti concreti di decoro urbano se tutti facciamo la nostra parte la città può essere migliore ma vuole anche essere uno sprone alle amministrazioni pubbliche non solo all'amministrazione comunale chiaramente per immaginare modelli nuovi se io non riesco più a gestire se il comune non riesce più a gestire i servizi deve rimboccarsi le maniche e deve trovare soluzioni nuove che in altre città ti ho citato Bologna funzionano benissimo l'amministrativo è molto diffuso non è una novità molto molto diffuso ossigeno è un'associazione non è un soggetto politico propriamente detto benché sia un soggetto politico perché come dire è un protagonista un soggetto presente nel discorso pubblico e in quanto tale è un soggetto politico un soggetto politico inteso come nel senso ne abbiamo già parlato adesso non ci sono per ossigeno non le condizioni non si pensa alle prossime elezioni amministrative però mi pare che il passaggio prima o poi sarà la decisione prima o poi sarà necessaria perché altrimenti le vostre piattaforme programmatiche il vostro lavoro il vostro anche protagonismo sul territorio deve trovare diciamo così dovrebbe trovare un momento di sintesi e un'assunzione di responsabilità accadrà questo immagino allora noi abbiamo ragionato e lo dico con estrema trasparenza su diversi step intanto ossigeno è un modello diciamo di organizzazione della società civile che ha l'obiettivo di proporre quindi la missione di ossigeno è basta criticare facciamo delle proposte per fare delle proposte abbiamo 3, 4, 500 quello che sarà avellinesi che si mettono insieme e elaborano queste proposte le proposte sono a disposizione del panorama politico così come configurato ad oggi che significano i partiti tradizionali se vogliamo le amministrazioni gli enti per cui non abbiamo nessun problema se domani mattina una nostra iniziativa venisse sposata dal comune di Avellino e venisse realizzata dopo domani saremo ben lieti di aver contribuito a dare diciamo in maniera concreta un passo in avanti questo è lo step numero uno dell'operazione ossigeno dopodiché è evidente ognuno di noi ognuno dei soci che ha aderito all'associazione può avere anche voglia interesse di fare qualcosa per la città e quindi anche di candidarsi anche di avere un ruolo amministrativo se eletto in prima persona ma le due cose non sono combacianti ossigeno è l'elaboratore delle idee il pensatoio in qualche modo il vivaio dal quale attingere le iniziative quando si dovrà ragionare tra un anno di come tra virgolette scendere in campo chi vorrà farlo io stesso non ho assolutamente deciso anticipo la tua domanda io non ho assolutamente deciso se alle prossime amministrative avrò diciamo la possibilità di sperimentare di avere un ruolo concreto lo dico con grande sincerità perché non ha senso candidarsi senza una piattaforma programmatica senza un progetto senza un gruppo di persone che ti aiuti a realizzare quel progetto allora noi tempo da perdere non ne teniamo voglia di fare cose inutili non ne teniamo la città mi sembra devastata se possiamo dare un contributo in prima persona lo facciamo ma questa decisione non è una decisione che si può prendere adesso quindi il progetto di ossigeno vivrà di due momenti la grande fase dell'elaborazione delle idee da qui ai prossimi mesi a cavallo delle elezioni ossigeno continuerà a fare la sua strada ad andare avanti come pensatoio come associazione che dibatte sul futuro della città di Avellino tutti coloro che lo vorranno dentro o fuori dell'associazione faranno anche delle iniziative se vogliamo più politiche e come ti dicevo io stesso farò una riflessione valuterò se ci sono le condizioni per dare una mano in prima persona o rimanere questa volta lontano dal dibattito politico mi pare di capire che a seconda della qualità e anche della quantità del lavoro che ossigeno metterà in campo in piedi in questi prossimi mesi insomma da questo verranno considerazioni che però tu sei iscritto anche al partito democratico io sono e rimango iscritto al partito democratico è il partito nel quale ho militato per la prima volta la mia prima tessera abbiamo detto che è una in ossigeno ci sono ci sono molto diverse sensibilità politiche molto molto differenti ma proprio perché ossigeno è apolitica proprio perché il comune denominatore è ci siamo stancati di questa città abbastanza trasversale e quindi ci sono nomi noti della destra cittadina nomi noti dell'estrema sinistra città ci sta tanta gente che ha le sue idee politiche differenti quindi non è la connotazione politica di ossigeno il tema il tema è i partiti sono ancora in grado di rispondere alle esigenze delle comunità specialmente delle comunità locali o meglio ancora scusa riformulo la frase i partiti ad Avellino sono ancora in grado di farlo perché sai il partito democratico a livello nazionale è ancora un partito che ha una sua tensione morale un suo slancio una sua capacità poi si può condividere o meno l'approccio di Renzi a me in questa fase piace un po' meno mi sembra un po' troppo autoritario però vabbè insomma non è il caso di parlare adesso del PD ma ad Avellino esiste il partito democratico? esiste l'UDC? esiste Forza Italia? esistono gli altri partiti? allora probabilmente sì ma con formule ed etichette un po' superate dalla storia quello che serve è che questi partiti trovino la forza di rigenerarsi anche entrando in qualche modo in competizione benevola con la società civile che li sfida sul campo dei contenuti quindi noi non siamo e io personalmente non sono contrario ai partiti il mio è un messaggio di assoluta vicinanza alla politica perché i partiti sono le forme con le quali la gente organizza la politica con le quali si organizza il processo però se poi il partito parla soltanto di congresso sì congresso no tesseramento sì tesseramento no foti sì foti no festa sì festa no siamo nell'iperuraneo abbiamo perso il contatto con la realtà non serviamo più a niente questo tipo di partito non mi appassiona non mi ci ritrovo non ho tempo da perdere in questo tipo di dibattito e siamo costretti a fare altro e altrove bene Luca Cipriano in bocca al lupo per il lavoro che aspetta anche Ossigeno seguiremo continueremo come dire a riflettere su chi propone qualcosa e possibilmente lo propone in termini leggibili da parte dei cittadini in riferimento a quella che è la vita dei cittadini e cioè i problemi che ogni giorno nei quali ogni giorno ci si imbatte per costruire una città scusa diciamo è corretto la tua chiusa è molto calzante noi chiediamo di non essere giudicati a priori giudicateci sulle cose che in qualche modo proporremo o sapremo fare senza pregiudizi senza astio o veleno come dire gratuito versato su questa operazione noi abbiamo voglia di fare e non speriamo di aver rotto le uova nel paniere a nessuno e quindi come tu e come il mondo dell'informazione osserverai e ci giudicherai ci giudicassero anche gli avellinesi i partiti però senza tagliare subito le gambe a qualsiasi iniziativa questa è una cosa che veramente fa male ad Avellino ogni volta che vuoi fare una cosa subito c'è uno che un minuto prima non dopo te l'ha già stroncata è una vecchia eredità che si riceve soprattutto dalle nostre parti noi consideriamo invece molto importante diciamo così un discorso che faccia riferimento a soggetti protagonisti che si muovono dentro la realtà in questo caso di Avellino proponendo suggerendo mettendo in piedi delle cose non possiamo affidarci da una parte al lamento dall'altra alla ferocia dell'invettiva dell'urlo Avellino non ha bisogno di entrambe queste due cose ha bisogno di riconsegnarsi a se stessa come in certi periodi della sua nobilissima storia ha saputo fare riflettere e proporre una soluzione più complessiva che consenta alla città agli avellinesi e non solo agli avellinesi di poter guardare con ottimismo al futuro soprattutto intanto per vivere in una città insomma che si sente propria che si sente gestibile abitabile in cui appunto si è in qualche modo felici nonostante i tempi che corrono Luca Cipriano in bocca al lupo buon lavoro salutami il PD quando lo vedi grazie a Luca Cipriano ossigeno buon lavoro a lui e ai soci di questa associazione grazie ai colleghi che hanno lavorato con me a questa puntata di senti chi parla e soprattutto grazie a voi che avete voluto seguirci da casa nel frattempo buon fine settimana a tutti voi noi ci vediamo però domani sera con tempo reale avremo un solo ospite e si chiamerà anzi si chiama Paolo Foti ti dice niente questa cosa sì un nome che conosco un nome che conosco ascolterò anch'io cosa ha da dire tempo reale domani sera 22 e 30 grazie Luca Cipriano grazie grazie a tutti